Sarà fruibile fino all'8 gennaio, presso lo spazio LOC del Centro Culturale Antonio Librizi di Capodorlando, l'esposizione Segno, titolo scelto per rappresentare la traccia lasciata nel processo di realizzazione delle incisioni. L'intera collezione, composta da più di 50 opere e di 15 incisori internazionali, vuole essere l'occasione per approfondire le complesse tecniche di un'espressione artistica di origine antichissima, quale l'incisione. L'obiettivo è di coinvolgere lo spettatore in un viaggio virtuale attraverso diversi mondi, dal Giappone ad Israele, passando per il Sud America, dove il colore è un marchio distintivo e culturale. La mostra, realizzata insieme alla End Coagency, rappresenta la prima collaborazione esterna per lo spazio LOC ed è stata curata dall'esperto alla cultura Giacomo Miracola, Monica Lanza e Domenica Scalisi, insieme all'assessore Cristian Gerotto. Insieme si è deciso di fare proprio il periodo di Natale. Non è una cosa campata in aria, nel senso che abbiamo deciso insieme di fare proprio il periodo natalizio a scegliere la grafica contemporanea in cui in particolar modo l'incisione nazionale e internazionale proprio per poter permettere alle famiglie orlandine, anche su quelle del territorio visitatori, di avere un approccio diverso a quello che è il collezionismo contemporaneo. Mi spiego. Attraverso la grafia, che ha dei prezzi veramente facilmente accessibili per quasi tutte le famiglie, noi vorremmo anche invogliare uno spirito e creare uno spirito al collezionismo. La scelta dell'incisione nasce perché c'era una voglia di mostrare questo media artistico, questa tecnica artistica, che nonostante sia molto antica, è poco conosciuta, veramente poco conosciuta. Poche persone penso potrebbero dirmi come si realizza un'incisione, in cosa consiste. Grazie anche al nostro esperto Giacomo Miracola siamo riusciti, ce l'abbiamo già pianificata, tutta l'attività che la struttura avrà fino al mese di giugno 2017. Quindi la nostra attività è focalizzata a potenziare questa struttura affinché diventi proprio un vero contenitore di arte moderna.